Una miscela esplosiva di blues, funky e soul in chiave acustica è stata la formula magica del concerto conclusivo dell'estate in città del comune di Pordenone. Musica, cinema, teatro, letteratura, arte, poesia, sport, incontri, laboratori fra centro e periferia, musei e giardini di casa hanno animato l'estate dei pordenonesi. Grossa soddisfazione nelle parole dell'assessore alla cultura Claudio Cattaruzza. Con uno scoppiettante concerto del bluesman Maddie Waters Junior si è conclusa domenica scorsa il Festival Blues che ha concluso anche l'estate in città. Un'estate che è stata abbastanza versata da condizioni immateriologiche particolarmente sfavorevoli ma che ha visto comunque un'ottima risposta di pubblico anche perché tutti gli appuntamenti avevano sempre una soluzione diversa e coperto proprio in funzione di quello che poteva essere in caso di maltempo. Adesso la città si sta preparando i grandi avvenimenti di settembre, quindi ci saranno sia Pordenone Legge a seguire le giornate del mutuo, c'è la Lecchino Errante. L'amministrazione comunale ha predisposto tutta una serie di appuntamenti e di mostre a cui vi invitiamo e che renderanno l'offerta culturale della nostra città completa in maniera tale da presentare proprio la comunità nel migliore delle sue espressioni. Contiamo quindi su una partecipazione sia del pubblico locale e sicuramente saremo all'altezza anche per gli ospiti che verranno da fuori.